Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. Con questo video vi porto delle nuove anticipazioni di Terra Amara. In particolare andremo a vedere cosa succederà nelle puntate che andranno in onda il 18 e il 19 aprile. In queste due puntate andremo a vedere Unkar che torna a casa, ma al suo ritorno non renderà felice suo figlio Demir. Ma prima di continuare, se vi va lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime anticipazioni. Ripartiamo! L'episodio parte con l'avvocato di Demir che arriva a casa della matriarca facendole capire che Demir vuole acquistare la villa e gli dà in mano un assegno il quale deve scrivere una cifra. Dopo un po' Beice vede arrivare una macchina alla villa. Unkar, scendendo dalla macchina, entra nella villa. La nonnina gli va incontro e Beice si mette nascosta per ascoltare la conversazione. Demir, vedendo in lontananza la madre, le grida di andare via. La matriarca gli risponde che ha incontrato Zuleia. Nello stesso momento Sanie vede Beice che sta ascoltando e la caccia via. Demir corre da Zuleia e gli domanda cosa ha fatto. Lei gli dice che non sopportava il fatto che la matriarca fosse felice. Per questo motivo ha detto a Fecheli tutta la verità, raccontandogli tutte le cattiverie commesse dalla donna. Demir, infuriato, la obbliga ad andare via. Subito dopo Unkar riconsegna l'assegno al figlio, dicendo chiaramente che non accetterà mai. Lui fa capire che non vuole più vederla e soprattutto non vuole vivere con lei. Unkar però gli dice che la casa è sua e che quindi lui se ne può tranquillamente andare. Demir le chiede come può trattarlo così e lei gli dice che non ha nulla di cui vergognarsi e che suo padre era davvero una pessima persona che ha incastrato Fecheli. Poco dopo gli racconta che Fecheli ha eliminato una persona per legittima difesa e suo padre, con una falsa testimonianza, l'ha sbattuto in carcere per ben vent'anni, perdendo completamente la sua famiglia. Unkar fa capire a Demir che con Adnan soffriva tantissimo, perché l'uomo tradiva costantemente la donna. La madre gli fa capire che per una volta nella vita voleva essere felice. Ma purtroppo lui pesa solo a se stesso, perciò gli fa capire che non ha niente di cui vergognarsi e se vuole andare via lo accetterà. Ma se per caso vorrà restare, allora lotteranno insieme contro tutto il paese. Arrivata sera, Beiche guarda di nascosto il diario di Mushgan, che scrive a suo figlio. Poco dopo, Ilmaz giunge a casa e vede questo diario e comincia a leggerlo. Vedendo quelle parole, inizia a piangere. Quando Mushgan scrive che lui l'ha sposata solo per far ingelosire Zuleya, ma lei lo ama davvero ed è davvero pronta a tutto. Dopo poco, Ilmaz si reca in ospedale, proprio da Mushgan, che gli dice che è lì per portarla a fare un giro. Demir raggiunge Zuleya nuovamente e lei gli dice ancora una volta il motivo di ciò che ha combinato. Demir gli fa capire che deve assolutamente dimenticare Ilmaz. Zuleya allora li controbatte, chiedendogli che farà se non lo dimenticherà. Demir, impietrito da tale affermazione, deve dire grazie che ha suo figlio nella pancia. Arrivata sera, Ilmaz prepara la cena a Mushgan e gli fa intuire che vuole passare una bellissima serata insieme a lei. Ma ad un tratto, lei gli comunica che deve dirgli una cosa. Demir, rientrando a casa, vede sua madre parlare con Aminne. Demir gli domanda come può comportarsi così come se non fosse successo nulla e lei gli dice nuovamente che la villa è sua e rimarrà lì finché vivrà. Mushgan, molto giù di morale, domanda a Ilmaz di ritornare a vivere con il padre. Ma lui gli fa capire che non tornerà affatto, ma certamente continuerà il suo piano per distruggere Demir. Ma per compiere ciò, egli deve stare accanto. Behice arriva a casa di Serminne e commenta le parole dette da Demir e capisce il perché Fekeli ha cambiato idea sul matrimonio. Demir e Zuleya si trovano in camera insieme e lui parla della vergogna che sta provando davanti a tutti per corpa di Unkar. Ma lei invece di rispondergli gli comunica che non vuole dormire con lui. Dopo che lui l'ha offesa, sentendo tale affermazione Demir si infuria e gli fa capire che ora, essendo in conflitto con Ilmaz e Fekeli, lei si deve comportare bene e deve certamente temere la sua ira. Successivamente qualcuno bussa alla porta di Serminne e Feke, aprendo, vede Atip, che con una scusa entra in casa. Serminne le riferisce della litigata tra Demir e sua madre e a quel punto anche lui gli rivela che è contro la famiglia Yaman. In un secondo momento, Atip si lamenta del potere che ha Demir sul paese. Ma poco dopo, Beice gli fa capire che la colpa è solo sua perché non lo ha mai contrastato e Atip la ringrazia per il consiglio prezioso ricevuto. In serata, Unkar, trovandosi sul terrazzo, viene raggiunta da Sanie che gli dice che sta molto male vedendola così triste. e lei gli fa capire che con il tempo tornerà tutto come prima. In questa serata particolare, tutti i personaggi della serie sono tutti molto penserosi. Durante la colazione, il piccolo Adnan spugge a Zuleya e va da Ilmaz, il quale lo prende in braccio e gli dice che gli è mancato. Mulgan dice ad Ilmaz di non farlo più venire da loro perciò lo porta da Zuleya dicendole di fare attenzione che non vuole proprio guai con la sua famiglia. Fadik e Sanie accompagnano Gulten a conoscere Rusten, il suo futuro marito e vedendole insieme, Sanie è molto contrariata e domanda a Gaffur come può una ragazza così bella andare con un uomo del genere. E perciò vorrebbe fermare l'incontro, ma lui la ferma e continuano a pranzare. Gaffur fa capire a Sanie che Gulten deve avere qualche grave problema per andare con un individuo del genere. Nello stesso momento, Rusten dice a Gulten che si aspetta rispetto e tanto lavoro e poi gli comunica che ha già tre figli e tre case. Voi cosa ne pensate di tutto questo? Le anticipazioni terminano qua. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. A presto e ciao!